La parità di genere sul lavoro è ancora un raggio. La Toscana non fa eccezione quando si parla di gap salariale. Secondo i dati di Ires e CGL, nella nostra regione sono il 67% le donne con età compresa tra i 15 e 64 anni ad essere attive sul mercato del lavoro, contro l'80% degli uomini. La Toscana presenta livelli migliori rispetto al dato nazionale, il quale però sconta i valori particolarmente critici del mezzogiorno. A parità di mansioni poi le donne percepiscono stipendi significativamente inferiori a quelli degli uomini. In Toscana è il dato del 2% in meno se si considera il salario medio, ma si può arrivare anche al 10% in meno. Di 267 milioni di ore su base hanno lavorato in meno dalle donne rispetto agli uomini. È chiaro che un lavoro così precario, così frammentato, anche mal ritribuito, diventa un'incognita fondamentale sull'indipendenza e l'autonomia delle donne. C'è un settore che invece può festeggiare tranquillamente l'8 marzo, è quello dell'agricoltura. Sono più di 12 mila in Toscana le imprese a guida femminile per un comparto che si posiziona nella top 5 dei settori con più alto tasso di femminilizzazione della regione, dopo i servizi, la sanità e l'istruzione e prima della ristorazione. A dirlo è col diretti, secondo cui quasi un'impresa agricola su tre, il 31%, ai vertici femminili, la cui presenza è cresciuta soprattutto nelle nuove attività di educazione alimentare e ambientale, come le scuole, gli agreasilo e le fattorie didattiche. L'agricoltura per fortuna è sempre più donna. Negli ultimi anni la donna si è instaurata sempre più nel mondo agricolo, portando innovazione, istruzione anche sulla base sociale. Si è aperto proprio un mondo alla multifunzionalità. E poi c'è lei, Barbara Conti, 40 anni di Zeri, sull'Appennino tra Toscana, Emilia e Liguria. Qui vive e lavora come mamma, allevatrice e casara. Una vera super donna, secondo l'Associazione dei Coltivatori Diretti, che l'ha premiata.